L'idea del flash mob odierno nasce con due amiche, Anna Casiglia e Anna Capozzi, per creare un ponte solidale tra Formia e Gaeta per stringere in un abbraccio le vittime di Genova perché è una tragedia che ha colpito tutti, una tragedia in attesa e con questo abbraccio che si svolgerà su tutta la battigia della spiaggia di Serapo a Gaeta, la spiaggia di Vindicio e la spiaggia a Genola di Formia ci stringeremo a loro. Grazie Grazie Grazie